Ciao! This meeting is being recorded. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, Enzo Scandurra è uno studioso, non è semplicemente un ingegnere, è uno studioso dotato di molteplici interessi. Ha studiato naturalmente soprattutto la realtà e la storia delle nostre città, di Roma in particolare, ma si occupa anche di ecologia. Questa sera lo sentiremo parlare di questo tema e di sapere scientifico. Collabora sistematicamente al manifesto da decenni, quindi svolge un impegno politico e civile assiduo. E scrive anche romanzi, quindi diciamo è una figura abbastanza complessa. Ricordo dei suoi lavori molto brevemente, innanzitutto le opere di urbanistica, diciamo, come Un Paese ci vuole, del 2007. Ricominciamo dalle periferie pubblicate nel 2009, Recinti Urbani del 2014. Con Ilaria Agostini ha pubblicato Miserie e splendori dell'urbanistica, un bellissimo libro che ho avuto il piacere di prefare. E poi ci sono le prove narrative, vi ricordo Vite periferiche del 2012, che è un ritratto desolato delle esistenze marginali nella città di Roma, poi Fuorisquadra. Infine, Exit Roma, un romanzo del 2019 pubblicato da Casteldeschi, che è un romanzo distopico. Ci rappresenta una Roma dopo una oscura catastrofe, dove gli uomini e gli abitanti si muovono come zompi in un deserto di rovine. Ricordo brevemente anche un po' di opere scientifiche. Biosfera, l'ambiente che abitiamo del 2020, la svolta ecologica, l'ultima occasione per il pianeta e per noi, pubblicata da Deriva Prodi. Infine ricordo brevemente, che Enzo Scandura è una colonna dell'Officina, il sito che insieme a lui, a Ignazio Masulli, a tanti altri, a Laura Marchetti, a Franco Novelli, non posso nominarli tutti, diciamo da 7-8 anni cerca di praticare una cultura interdisciplinare. Infine aggiungo, e non so se questo accresce il profilo di Enzo. Enzo è da decenni un mio compagno di lotte per cambiare il volto disfatto di Roma, per fare qualche cosa per questo paese malandato che è l'Italia del nostro tempo. Quindi io la chiuderei qui per il momento, poi ricorderò alla fine della lezione del dibattito. Cosa nell'orecchio, si sta scaricando adesso. Quindi do la parola a Enzo. Allora, beh, innanzitutto il titolo è un po' ambizioso, lo avrete capito, scienza, ecologia, modernità. Quindi forse c'è stato un disguido quando abbiamo definito questo titolo. Io ovviamente non ho nessuna, non ho la pretesa di occuparmi di tutti questi concetti, anche se affrontando i problemi, le questioni che adesso dirò, probabilmente toccherò direttamente o indirettamente uno di questi aspetti. Allora, l'obiettivo di questa lezione è quello di descrivere il passaggio dal paradigma lugioniano della meccanica classica, cioè la visione del mondo come grande orologio, a quello invece di, al paradigma della complessità e della termodinamica, perché questo ci consente, voglio dire, di poter parlare della biosfera, di questo evento miracoloso, passatemi questa parola, che si è prodotto nel nostro pianeta, unico a possedere questa biosfera, e poi tutto sommato questo non è un segreto che l'economia classica, a partire da Smith, si è basata soprattutto sul paradigma della meccanica classica di Newton, cioè la cosiddetta mano invisibile viene da questa metafora, da questa legge di gravitazione di Newton, dell'equilibrio tra masse, appunto che si attraggono, si respingono, eccetera, eccetera. Allora, io farò alcune premesse, nel senso che non credo ci siano tra noi, anzi sicuramente non ci sono tra noi dei negazionisti, quindi voglio dire, dopo e scontato le cose che stanno succedendo, la crisi ecologica, la drammatica crisi ecologica, e in realtà, così come l'obiettivo entro il 2050 è di contenere la temperatura del pianeta entro certi limiti, entro un grado e mezzo, obiettivo che in qualche modo stiamo già fallendo, ma che comunque, anche se rispettato, comporterebbe, voglio dire, comporterebbe dei guai e delle conseguenze pesanti, anche se rispettassimo, se fosse rispettato questo obiettivo delle... Così come non parlerò dei ritardi, dell'inerzia, dell'impotenza dei nostri governanti e amministratori, sia a livello locale, sia a livello internazionale, per rimediare, diciamo, i danni che provoquerebbe questa crisi ecologica, insomma. Io rimando un po' alle recenti tragedie delle Marche, a Iskian e Pakistan, e adesso ancora più recentemente in Turchia, dove è vero che c'è stato un terremoto, e i terremoti sono imprevedibili, ma è altrettanto vero che costruire su una faglia di quelle dimensioni, nota per il suo carattere sismico, edifici di 14-17 piani, senza nessuna protezione sismica, significa probabilmente, come dire, aggravare le condizioni di integrato. Siamo tutti delusi, immagino, dalle andamenti e dai risultati delle conferenze delle parti, delle COP, l'ultima, quella che si è tenuta, Sharmay Shek, anche questa, voglio dire, praticamente non si è concluso nulla, e si inizia, stiamo cominciando forse a riflettere sul fatto che queste conferenze delle parti in realtà non portano in nessuna parte, nel senso che forse sarebbe il caso addirittura di abolirle. Tutto questo, anche a causa, è uscito un libro recentemente, di Daniele Conversi, che si chiama i cambiamenti climatici, antropocena e politica, dove parla del ruolo anche che i nazionalismi, la pervasività dei nazionalismi, come dire, che stanno caratterizzando quest'epoca, concorre a impedire che si prendano delle iniziative a livello internazionale. Allora, io confesso, faccio una piccola premessa, cioè confesso che quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ho pensato che forse, ingenuamente, come forse ingenuamente ha pensato qualcun altro di voi, ho pensato ingenuamente che forse si sarebbe approfittato di questa drammatica circostanza per accelerare il processo di dipendenza dai fossili, cioè, visto che erano stati chiusi i rubinetti di gas, dalla Russia, forse sarebbe stato il caso appunto di accelerare questo processo, questa riconversione ecologica, diciamo così, ma comunque l'abbandono dei fossili. In realtà è successo il contrario, nel senso che tutti gli stati hanno cercato di rimediare a questo problema cercando altri luoghi di estrazione del gas, eccetera. La stessa Giorgia Meloni ha concluso recentemente un accordo con l'Algeria e addirittura pensa di collocare un hub nel Mediterraneo, in Italia, per la distribuzione del gas in altri paesi. Allora, io devo dire subito che sono molto d'accordo con l'impostazione che Laura Marchetti diede all'ecologia nella lezione del 14 novembre scorso, non so se vi ricordate chi di voi ha assistito a questa bella lezione di Laura Marchetti, lei diceva, parlava di un approccio particolare, il suo approccio era quello dell'ecologia profonda che, se mi ricordo bene, diceva ha l'arrogante presunzione di cambiare il mondo e questo approccio di ecologia profonda lo contrapponeva ad altre visioni ecologiche, certamente che lei, ma anch'io, anche forse alcuni di voi ritengono meno efficaci e soprattutto non efficaci, diciamo. Ecco, io vorrei riassumere queste diverse visioni ecologiche in due tipi, cioè da una parte il concetto di quella che è basata sul concetto di idealizzazione della natura, cioè la natura buona, la natura ci fornisce tutto ciò che ci serve eccetera eccetera e che da cui scaturisce un atteggiamento che è quello di ovviamente di tutela, di protezione, di salvaguardia e così via. Ora, questa idea di idealizzazione della natura è quanto mai sbagliata, nel senso basterebbe reggere forse Leopardi quando diceva che della natura non ci viene nulla di buono, ma poi soprattutto per sfatare questa visione basterebbe ricordare che nel corso dell'evoluzione del nostro pianeta, della biosfera, ci sono state ben cinque estinzioni di massa, cioè ogni estinzione di massa ha comportato l'eliminazione del 90% delle specie di animali viventi sul pianeta che si sono state completamente cancellate per dar vita poi a una nuova biodiversità. Quindi la natura è tutt'altro che è buona e accogliente insomma. Una seconda visione è quella che ci viene secondo me dalla rivoluzione scientifica del 600 e dalla cultura ebraico-cristiana e cioè quella del dominio. Io mi riferisco soprattutto a Galilei che nella sua enfasi della scienza nuova che aveva addirittura che aveva provocato una rottura con la metafisica precedente, Galilei arrivò a sostenere che appunto la natura è scritta nei simboli della matematica e della geometria per cui basterebbe conoscere questo linguaggio per poterla conoscere e dominarla soprattutto e dopo di lui voglio dire altri scienziati di quell'epoca hanno sostenuto idee ancora più forti Bacone per esempio o Cartesio addirittura con la scissione tra mente e corpo Laplace eccetera eccetera ecco io sono d'accordo con invece con 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 l'approccio di di Laura di ecologia profonda o se vogliamo ecologia profonda o l'ecologia integrale di Papo Francesco anche questa voglio dire un approccio non compromissivo diciamo ma che guarda appunto ai vari aspetti che dovrebbe riguardare l'ecologia non soltanto i cambiamenti climatici ma i modelli di vita la solidarietà le disuguaglianze la povertà le guerre eccetera eccetera quindi questa questa visione integrale di ecologia integrale di Papa Francesco secondo me è appunto molto simile a quella di di Laura dell'ecologia profonda ecco io vorrei adesso a questo punto entrare nel merito del problema e parlare della complessità cioè voglio dire fino alla metà del secolo scorso prevaleva una visione scientifica del mondo come un orologio un meccanismo perfetto che si poteva comporre riscomporre senza che una macchina banale in sostanza penso era l'espressione von Foster cioè una macchina banale che si poteva comporre ricomporre a piacimento ecco il paradigma perché non è una teoria vera e propria della complessità il paradigma della complessità invece introduce un concetto completamente diverso che cos'è la complessa che cos'è un sistema complesso ecco questo forse Laura l'altra volta ha tentato di definirlo in maniera forse un po' poetica nel senso del tessuto appunto di questo tessuto fatto di fili che si intessono tra loro ma io vorrei dire che un sistema un sistema o un fenomeno complesso è un sistema in cui il tutto è maggiore della somma delle parti e non solo ma le proprietà del sistema cioè del tutto non sono riconducibili alle proprietà delle singole parti che lo compongono quindi innanzitutto bisogna dire che mentre per molto tempo abbiamo pensato che tutti i fenomeni potessero essere interpretabili descrivibili con la meccanica di Newton abbiamo poi scoperto che in realtà la maggior parte no la maggior parte la quasi totalità dei fenomeni è di natura complessa nel libro Jurassic Park c'è un dialogo molto interessante tra il matematico che va a vedere l'isola dei dinosauri e il guardiano dell'isola dei dinosauri sono poche righe ma molto interessanti perché il matematico dice al guardiano il vostro esperimento fallirà il guardiano dell'isola dei dinosauri dice a sua volta al matematico ma che ne sai non hai visto le cose e dice ma io te lo dico sulla base della mia esperienza e di conoscenura dei fenomeni complessi l'esperimento dell'isola dei dinosauri fallirà ecco questo era un po' un modo così e Crichton insomma era un modo un po' divulgativo di spiegare il fenomeno della complessità allora ho detto che cos'è un sistema complesso il termine complesso ovviamente non è opposto a quello di semplice semmai opposto a quello di complicato cioè per fare un esempio un aereo è un sistema complicato perché può essere montato e rismontato a piacimento complicato perché è fatto di tante parti ovviamente ma questa operazione di smontaggio e rimontaggio può essere fatta senza che l'aereo perda in nessun modo le sue caratteristiche perché ogni parte contribuisce all'obiettivo dell'aereo che è quello di volare le ali la coda le eliche i motori eccetera eccetera ecco la stessa cosa non si può dire dei sistemi complessi un cervello è un sistema complesso non c'è bisogno di dire che non può essere smontato e rismontato perché voglio dire perderebbe tutte le sue qualità pari si sostiene che complesso è un sistema nel quale si può parlare a lungo in altre parole più cose possiamo dire sul comportamento di un sistema più ricco è il linguaggio da usare più variegata è la sua descrizione maggiore è la complessità del sistema ora io sto parlando della complessità perché a questo punto vorrei introdurre il concetto di biosfera ma la biosfera ma ci sono stati due scienziati che qualche anno fa decine di anni fa Lovelock e Margulis che pensavano che la biosfera io d'orino avanti parlerò di biosfera di pianeta in maniera sinonima diciamo che la biosfera è un sistema complesso lo dato in suo addirittura di un suo metabolismo un super organismo che chiamarono e qui dietro anche un nome il nome di Gaia su questa teoria scientifica diciamo è discutibile che la biosfera abbia un suo metabolismo come gli organismi umani allora il concetto di biosfera fu introdotto la prima volta che se ne parlò è ad opera di un scienziato russo Vladimir Vernasky nel 1926 e che cos'è questa biosfera è l'ambiente dove viviamo cioè per per identificarla anche quantitativamente è una corona sferica che intersega la grossa terrestre e va da 20 km diciamo sopra la superficie terrestre a 20 km a una quindicina di km quindi diciamo ai fondali marini sotto la grossa terrestre quindi c'è uno spessore di una quarantina di chilometri diciamo così e per questo era stata chiamata con un nome molto poetico con un'espressione molto poetica la sottile buccia dell'arancia blu appunto non buccia in realtà la buccia dell'arancia è molto più grande relativamente alle dimensioni dell'arancia di quanto lo sia la biosfera rispetto alla terra è l'ambiente dove viviamo ecco vi leggo soltanto due righe di Bernaschi nel 1926 quindi dice mentre la scienza cartesiana newtoniana aveva eliminato la vita dal mondo la visione scientifica di Bernaschi reintroduce il dinamismo della materia vivente nella teoria della terra e di tutta la filosofia naturale Bernaschi si situa all'alba di questa rivoluzione scientifica contemporanea che segna la fine dell'epistemologia della meccanica e nell'inizio dell'epistemologia della complessità allora io vorrei non per fare una lezione accademica ma per i risvolti che questo comporta in termini ecologici e anche politici fare questo racconto di questa nascita di questa biosfera come è nata la vita sul pianeta premetto questa biosfera è un luogo assolutamente singolare dove c'è la vita e un luogo così singolare e così particolare che in nessun altro pianeta da noi conosciuto si è sviluppata qualcosa di simile quindi è un evento in sostanza direi quasi miracoloso ecco se mi passate l'espressione laica in senso laico un evento che non necessariamente avrebbe potuto verificarsi anzi vi leggo a proposito di questa di questa di questo di questo diciamo evento assolutamente originale e particolare vi leggo una frase di all'inizio del libro di Termo Pievani imperfezione una storia naturale dice in principio fu l'imperfezione una disobbedienza all'ordine precostituito una ribellione senza testimoni nel cuore della più buia delle notti qualcosa si ruppe nella simmetria 13,82 miliardi di anni fa si alzò un soffio impercettibile e la grande matita dell'universo cadde rovinosamente da una parte e non dall'altra una piccolissima infinisimale infinidesimale anomalia divenne scaturigide di ogni cosa ecco quindi questo evento non era scontato ed è un evento assolutamente singolare allora su questa la biosfera era questa questa corona sferica era inizialmente un luogo in cui non sarebbe potuto non sarebbe potuto non si sarebbe potuto sviluppare forme di vita perché l'atmosfera era piena di gas di CO2 di metano eccetera eccetera e con poco ossigeno e nessuna forma si sarebbe a un certo punto si nasce nascono delle forme delle dei organismi monocellulari monocellulari che nascono questi negli oceani perché negli oceani perché non essendosi ancora formata la fascia di ozono che protegge la nostra biosfera dai raggi ultravioletti che sono raggi che possono distruggere nel tempo qualsiasi cosa si forma appunto l'origine della vita nasce negli oceani come si sia originata la vita è ancora un mistero nel senso che come sia stato possibile che da sostanze inorganiche si sia passati a sostanze organiche questo è ancora un mistero non sappiamo anche questo se volete leggere qualche cosa che spiega un po' di più ma insomma non tanto c'è un libro di Erwin Schrödinger What's Life che cos'è la vita appunto pubblicato molti anni fa che affronta questo problema successivamente succede un'altra cosa molto importante e cioè che alcune molecole d'acqua riconoscono l'energia solare dico riconoscono perché anche questo non era un esito scontato nel senso che sugli altri pianeti almeno quelli che conosciamo il sole batte scanda scanda la terra e poi rimbalza e quindi non succede niente non nasce niente non muore niente ecco alcune molecole di acqua sali minerali contenuti nella terra eccetera hanno riconosciuto questa energia solare e si è innescato quel fenomeno quel processo che voi che abbiamo studiato anche nelle scuole elementari di fotosintesi che significa fare cose con la luce per cui sono cominciate a nascere le piante in questa biosfera ora immaginate immaginate come nel corso dei milioni di anni questo pianeta questo pianeta intendo biosfera ma intendo la stessa cosa questo pianeta si sia coperto almeno tutte le terre emerse si siano coperte di grandi foreste e queste foreste hanno iniziato a sottrarre il carbonio in eccesso poi questa parola in eccesso ne faccio un uso un po' antropomorfico in eccesso non significa niente la biosfera andava bene anche così in eccesso rispetto alla possibilità della comparsa degli esseri viventi sul pianeta ecco queste foreste hanno nel corso di milioni di anni sottratto questo carbonio e prodotto ossigeno fino a portare la composizione dell'attuale atmosfera ai livelli attuali che sono quelli di 78% di azodo e 21% di ossigeno ecco e qui c'è una prima riflessione importante da fare e cioè dove è finito questo carbonio questo CO2 sottratta all'atmosfera ecco è finita in sostanza si trattava di un rifiuto un elemento voglio dire dannoso rispetto alla composizione attuale dell'atmosfera e quindi andava nascosto andava seppellito sotto la grossa terrestre e questi sono i fossili quindi in sostanza possiamo dire possiamo fare un racconto di questo genere è come se quando noi quando noi come dire utilizziamo bruciamo i fossili reinvertiamo questo processo e rimettiamo rimettiamo nel pianeta la nitrida carbonica sottratta e quindi voglio dire facciamo un'operazione di inversione di questo ciclo in sostanza è come se a un certo punto ci fosse uno spazzino che nel corso di tanti anni raccoglie l'immondizia nelle strade di tutte le città del mondo la mette nei cassonetti e voglio dire e poi dopo di lui un altro spazzino un po' più capriccioso rovescia tutti questi cassonetti sulla strada e quindi riproducendo le condizioni antecedenti ecco questo ci dovrebbe spiegare perché non dobbiamo individualizzare i fossili ma dovrebbe essere forse un insegnamento a partire dalle scuole elementari cioè in sostanza i fossili erano sono voglio dire i rifiuti della della biosfera e sono stati seppelliti appunto per non provocare danni e quindi voi capite che l'utilizzo dei fossili voglio dire altera sostanzialmente il clima producendo quello che il riscaldamento del del pianeta attraverso l'effetto serra insomma perché come dire inspessisce lo strato di CO2 nell'atmosfera ecco a questo punto per spiegare un po' ancora un altro fatto incredibile che è successo su questo pianeta devo però introdurre il concetto di entropia non è un concetto l'intropia è un concetto semplice e anche complesso dipende un po' da come lo si affronta da come se ne parla è anche un concetto che ha fatto riflettere molti molti non scienziati per esempio Freud o più o ultimamente anche Scalambro quel filosofo siciliano appunto che ha scritto un bel libro in proposito che era la morte del sole l'entropia è una misura misura lo stato più probabile di un sistema ovvero il grado di ordine disordine entropia introduce anche il concetto di irreversibilità cioè si va sempre da uno stato di ordine verso uno stato di disordine allora questo non ci bisogna spiegarlo nel senso che fa parte dell'osservazione quotidiana di ognuno di noi se uno al mattino mette la casa in ordine e poi fa le sue cose alla sera sicuramente la casa sarà meno ordinata di quanto lo era all'inizio ovvero per riportarla alle stesse condizioni di ordine occorre fare un lavoro cioè somministrare energia che cosa significa l'entropia diminuisce sempre aumenta sempre in tutti i sistemi salvo i casi dei sistemi isolati rimane costante ma spontaneamente l'entropia aumenta quindi aumenta il disordine l'entropia ci dice anche un'altra cosa che ad ogni trasformazione di energia l'energia libera che rimane voglio dire diminuisce cioè ogni trasformazione energetica comporta una degradazione dell'energia per cui voglio dire l'energia finita l'energia degradata non può essere riutilizzata ulteriormente per ulteriori trasformazioni ecco il calore per esempio è una forma di energia il calore a bassa temperatura è una forma di energia degradata che non può essere riutilizzata per riottenere un altro tipo di energia il calore ad alta temperatura invece può muovere le turbine e trasformarsi in energia meccanica un'energia cinedica eccetera eccetera allora perché dico questo? perché su questo pianeta è successo un fatto assolutamente singolare anzi alcuni scienziati io mi ricordo per esempio Enzo Tiezzi diceva che la bellezza su questo pianeta addirittura la bellezza dei fiori la bellezza di una rosa è dovuta a questo fenomeno singolare per cui l'entropia nella biosfera diminuisce ora io ho detto l'entropia non può mai diminuire ma adesso vi spiegherò questa apparente contraddizione cioè il pianeta riceve energia energia ad alta temperatura energia nobile dal sole dopodiché voglio dire trasforma questa energia la degrada e quindi all'interno del pianeta all'interno della biosfera l'entropia diminuisce e poi come dire c'è una quota di energia che viene espulsa verso lo spazio ed è a bassa temperatura quindi entropia aumenta allora se consideriamo il sistema di riferimento soltanto la nostra biosfera abbiamo che l'entropia diminuisce cioè ovvero si passa da uno stato di disordine a uno stato di ordine questo è il concetto che ci interessa quindi la bellezza uno potrebbe anche metterla in questi termini la bellezza la biodiversità eccetera che si produce nella biosfera è appunto l'effetto di questa diminuzione di entropia il secondo principio non è contraddetto perché se allarghiamo il sistema di riferimento al sole biosfera e spazio complessivamente facciamo un bilancio entropico complessivamente l'entropia aumenta ora dico questo perché questo principio dell'entropia è un principio che come dire mette assolutamente in discussione tutti per esempio tutto il sistema economico la costruzione dell'economia classica nel senso che in passato è morto qualche anno fa c'era uno scienziato un economista rumeno che si chiamava Giorgesco Regan il quale scrisse due libri interessanti fondò una scienza che si chiamava bioeconomia economia del vivente i due libri che scrisse sono analitico l'economics nel 1966 dentro più lo and the economic process nel 1971 Giorgesco Regan sosteneva l'economia è basata sul paradigma della meccanica di Newton la legge domanda offerta che è un paradigma superato mentre essa dovrebbe fondarsi sul paradigma della termodinamica e delle scienze della vita biologia ed etologia Giorgesco Regan fu invitato anche a partecipare al dibattito che si sviluppò dopo la pubblicazione del rapporto del Massachusetts Institute of Technology del 1972 commissionato dal Club di Roma un rapporto che probabilmente voi conoscerete ma le cui previsioni dicevano che il pianeta sarebbe collassato più o meno negli anni 2030 se non sbaglio per effetto della finitezza delle risorse e per l'effetto dell'inquinamento Giorgesco Regan partecipò a questa discussione a proposito il rapporto uscì poi sotto forma di libro con il titolo The Limits to Grow i limiti della crescita in realtà in Italia fu tradotto i limiti dello sviluppo un errore madronale se pensate che i due termini sviluppo e crescita sia in italiano sia in inglese hanno due nomi diversi io non credo sia stato un errore apro semplicemente questa piccola parentesi non credo sia stato un errore semplicemente perché crescita e sviluppo in quegli anni siamo nei famosi 30 gloriosi in quegli anni probabilmente crescita e sviluppo era la stessa cosa cioè tutto cresceva tutto si sviluppava voglio dire e chiunque metteva in crisi questa impetuosa crescita questo impetuoso sviluppo veniva appunto additato come un nemico del progresso quindi questo smascheramento dei miti economici si fondava su una simmetria secondo Georges Correggen tra lo stock finito di risorse e il flusso di energia proveniente dal sole poco concentrato in intensità ma enorme rispetto a quello di origine terrestre ecco per fare un esempio forse molto caro a Piero che si è occupato di attività di agricoltura industriale Georges Correggen diceva che avendo l'uomo sostituito le risorse di origine solare più abbondanti e cioè il lavoro umano animale e letame con risorse di origine terrestre macchinari fertilizzanti eccetera è considerato il rendimento fortemente decrescente dei fattori produttivi in agricoltura l'agro l'agricoltura industriale era una sperperatrice di energia terrestre ecco questa era la sostanza quindi l'atteggiamento di Georges Correggen era radicale nel senso che diceva è inutile parlare di economia è inutile parlare di crescita infinita è inutile parlare di sviluppo eccetera eccetera l'unica legge che regola la vita sul pianeta è la legge dell'entropia che è una legge inesorabile per cui voglio dire non si sfugge a questa legge nel senso che noi possiamo utilizzare soltanto l'energia solare ogni altro utilizzo di 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 senso di diminuzione di energia libera ecco io mi avvio a a finire farò semplicemente un accenno alla tecnica in qualche modo mi spetta visto che sono un ingegnere anche anche se non ho mai fatto la professione di ingegnere in realtà diciamo che la tecnologia per molto tempo è stata una una un'applicazione un'applicazione della scienza cioè la tecnologia non procedeva autonomamente ma come dire veniva al seguito di scoperti scientifiche per esempio non si sarebbe mai potuto concepire il motore a combustione interna delle attuali macchine se non ci fosse stata la scoperta del secondo principio della termodinamica da ormai da tanto tempo la tecnologia non ha più bisogno della scienza procede autonomamente internet o i telefonini dietro dietro internet dietro i telefonini non c'è nessuna teoria scientifica c'è solo un accrescimento quantitativo e velocissimo della tecnologia quindi tecnologia e capitalismo in sostanza perseguono lo stesso scopo quello di accrescere se stessi di accrescere all'infinito se stessi e questo voglio dire forse ci riguarda un po' perché dovremmo come dire nel processo di revisione marxista voglio dire questo invece esaltazione della tecnica del progresso questo carattere positivista diciamo potrebbe essere un po' forse analizzato più analizzato per vedere come la tecnica appunto facevo prima l'esempio dell'intelligenza artificiale sta diventando pericolosa un ultimo aspetto si si torna a parlare della scienza neutrale cioè alcuni dicono la scienza è neutra dipende dall'uso che se ne fa e i sostenitori di questa di questa teoria di questa tesi usano spesso l'esempio del martello dicono con un martello si possono attaccare dei chiodi sulla parete per mettere dei quadri oppure si può fracassare la testa di un nemico e quindi voglio dire dipende tutto dall'uso che se ne fa ora questa cosa è particolarmente per me dolorosa nel senso che ho sempre detto che uno dei miei maestri è stato Marcello Scini il quale dal 1972 cioè dall'epoca di pubblicazione di quel libretto L'ape e l'architetto via via in tutti gli anni fino alla sua morte la venuta dieci anni fa non ha fatto altro che confutare questa teoria della tecnica neutra dicendo che la tecnica è figlia dei rapporti sociali dei rapporti di produzione eccetera eccetera e quindi voglio dire non è assolutamente neutra ma questo ce lo insegnò anche Rachel Carson di cui quest'anno mi pare si celebrano il cinquantesimo della popolazione del libro di quel grande libro che è stato Silent Spring Primavera Silenziosa dove la Carson fece denunciò per prima i come dire i danni provocati dall'uso dei pesticidi conoscete forse la storia della Carson fu voglio dire osteggiata fu boicottata diffamata e soltanto credo nel 1900 fu John Kennedy che la riabilitò dicendo che la Carson aveva detto delle cose vere lei in particolare fece la lotta contro il DTT voi qui siamo una generazione di persone non giovanissime per cui ci ricordiamo tutti gli effetti di questo di questo insetticida DTT che appariva al momento della sua della sua del suo uso come una cosa liberatoria perché ci liberava dalle mosche dai parassidi eccetera eccetera e poi invece si è dimostrato essere anche un potente cancerogeno io finisco dicendo voglio porre alla vostra attenzione una particolare tecnologia che secondo me illumina proprio questa condizione di assurdità della tecnica questa tecnologia si chiama CCS forse molti di voi la conoscono e significa cattura e sepoltura e seppellimento scusate cattura e seppellimento dell'anitrita carbonica ed è una cosa che dovrebbe far ridere nel senso che come dire alcuni produttori di CO2 non volendo rinunciare alla loro produzione ma essendo costretti dai fenomeni di alterazione climatica costretti a prendere dei provvedimenti hanno pensato bene di catturare di continuare a produrre come produrre catturare la CO2 che esce dai cammini delle fabbriche e seppellirla sotto la crosta terrestre normalmente non dappertutto ma laddove soprattutto si era trivellato per estrarre combustibili fossili e quindi c'è la presenza di grandi cavità sotterranee per esempio a Ravenna e quindi seppellire questa CO2 sotto la crosta terrestre ora questa è una cosa incredibile insomma nel senso che a parte che è esattamente quello che ha fatto la natura nel corso dei milioni di anni ma non con queste conseguenze disastrose ma poi catturare il CO2 e seppellirla significa consumare energia non c'è verso insomma cioè si continuano si continua insomma io Batson usava una frase una metafora molto 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 interessante molto indicativa diceva il dio ecologico non può essere beffato e non esistono scorciatoie in ecologia cioè ora questa questa tecnica somiglia un po' a quei a quelle invenzioni prima del del 1750 che erano basate sull'idea che ci fosse il moto perpetuo no? fino a che nel 1775 l'accademia francese poi non accettò più brevetti che si basavano su invenzioni che riguardavano il moto perpetuo il moto perpetuo non è possibile semplicemente perché esiste il secondo principio della termodinamica ecco questo c'è il barone di Mouchansen che si prende i capelli e si tira su per attraversare la palude è una cosa che non ha senso ma i nostri governanti voglio dire non hanno ancora capito questa lezione nel senso che ancora credono che in qualche modo esista un modo perpetuo perché si produce CO2 ma poi si seppellisce sotto la grossa terrestre e allora voglio dire il problema è finito la soluzione è stata trovata possiamo continuare a produrre continuare a crescere continuare a catturare CO2 a nasconderla eccetera eccetera questo mi pare un segnale dei tempi insomma c'è questo atteggiamento così negativo va bene io vi ringrazio ho finito qui se qualcuno vuole poi qualche indicazione bibliografica l'ho mandata a Piero c'erano altre e arrivederci grazie Enzo abbiamo già alcuni che hanno chiesto di intervenire lasciare un po' di spazio anche per voi per poter porre questioni e domande e poi magari raccoglierne due o tre per dare modo Enzo di replicare ho un iPhone che non so a chi corrisponda che ho alzato la mano e poi Marina Avon non c'è quindi Marina sì allora grazie intanto per questa relazione mi ha diciamo generato molte suscitato molte molte riflessioni molti stimoli e adesso però per semplificare per essere contenuta nei tempi faccio riferimento soltanto a un paio di punti che ho particolarmente a cuore il primo riguarda Galileo Galilei perché per me è è stato una tale pietra miliare nella storia anche della nostra cultura che mi è veramente difficile sentirlo un po' ridurre anche se capisco che ovviamente nei limiti di una presentazione di questo tipo non si può fare altrimenti a come colui che in qualche modo ha fatto ha introdotto l'idea che la natura possa essere dominata dall'uomo io penso invece che a introdurre a diffondere negli anni nei secoli questa idea di dominazione dell'uomo sulla natura sia stata piuttosto la religione e la chiesa la religione cristiana ha sempre messo al centro del creato l'uomo e tutto il creato in qualche modo era a sua disposizione l'idea che la natura vegetale la natura animale fosse stata creata per soddisfare i bisogni dell'uomo è un'idea che la religione piuttosto che la scienza ha introdotto e sostenuto e difeso penso fino a pochi anni fa forse adesso è cambiata un po' la sensibilità riconosco che Papa Francesco abbia diciamo cambiato un po' il registro l'altra fonte diciamo di diffusione di questa idea è stata soprattutto la diciamo il sistema economico derivante l'industrializzazione quindi il capitalismo l'industrializzazione che in una diciamo in un'idea così ottimistica dell'avanzata del del progresso diceva che appunto l'uomo può dominare il il pianeta l'universo la natura per quanto riguarda invece Galileo io credo che lui abbia contribuito a non considerare i fenomeni naturali come qualcosa di così incomprensibile estemporaneo a cui l'umanità era sottoposta e soggetta io penso che alla sua al suo tempo semplici fenomeni come per esempio tempeste temporali fenomeni distruttivi naturali venissero interpretati come qualcosa veramente misterioso e soprattutto di punitivo nei confronti dell'umanità come una specie di volontà divina che si un'ira divina che si abbattesse sull'umanità e invece il fatto di dire e di affermare l'idea che la natura è in qualche modo un libro che si può cominciare a leggere conoscendo il suo alfabeto e individuandone quindi i legami le leggi sia un'idea importante che è nata appunto con questo approccio scientifico ai fenomeni naturali poi l'altro aspetto anche il meccanicismo sì il meccanicismo è riduttivo ovviamente è quello che di un sistema complesso estrae alcuni elementi e lo modellizza per poter per poterlo studiare sì questo sicuramente è un limite ma è il limite che ha permesso alla scienza dei grandi avanzamenti modellizzare i sistemi in maniera semplificata ridurli ad alcuni elementi diciamo di tipo fondamentale comunque è quello che ci ha permesso di conquistare tante di quelle comfort di quei comfort che noi consideriamo praticamente irrinunciabili oggi e che ci ha permesso di capire soprattutto come funzionano i sistemi altrimenti saremmo rimasti diciamo di fronte a questi sistemi complessi senza avere alcuna possibilità di cominciare a scardinarli e anche in maniera limitata di cominciare a capirli quindi con tutti i limiti che ha la semplificazione l'approccio meccanicistico che si rifà alla diciamo a una modellazione una modellistica semplificata dei fenomeni naturali ben vengano e sono ben e hanno ben contribuito a capire comunque i meccanismi fondamentali di molti aspetti dei fenomeni che ci circondano e della tecnica che poi si è sviluppata in conseguenza di questo che altro ci tenevo a dire per quanto riguarda il fenomeno così diciamo singolare così improbabile che è la vita è vero sì per noi può sembrare così improbabile e singolare però quasi miracoloso però ricordiamoci che noi appunto dell'universo che ci circonda conosciamo ben poco e che tutto quello che abbiamo detto rispetto a questa singolarità questa eccezionalità è riferito a quel poco di sistema cosmico che conosciamo e anche in quello comunque non è proprio così perché per esempio nel 2018 la NASA ha dichiarato che su Marte sarebbero presenti molecole organiche e che con i cicli del metano presenti nell'atmosfera di Marte Marina sì prego mi sto dilungando troppo allora finisco niente che su Marte probabilmente la vita c'è stata o forse ci sarà di nuovo quindi insomma non è proprio così singolarissimo in assoluto questo fenomeno vita l'ultima cosa brevemente io apprezzo moltissimo il lavoro di Marcello Cini come quello che ha fatto la Carson ma penso che anche loro in quella in quei lavori volessero denunciare soprattutto l'utilizzo che si fa nel nostro sistema economico nel sistema che sfrutta conoscenza e risorse naturali per generare profitti e disastri ma non la conoscenza e la tecnica che da questa conoscenza deriva e chiudo grazie scusate anzi mi sono dilungata troppo grazie grazie Marina sono iPhone Mario Sommella eccoci qua allora volendo riprendere il passaggio capitalismo e tecnologia e vorrei diciamo controbattere un attimo questo paradigma che accosta la tecnologia e le tecnologie al capitalismo ed esclusivamente solo al capitalismo con un paradigma di Teodoro Adorno che a metà degli anni sessanta diceva con chiarezza che la sinistra o quella sinistra che si pone al di sotto della qualità della tecnica sarà destinata o a scomparire o a essere ininfluente ecco se probabilmente ci troviamo in questa fase non credo nella sconfitta totale ma che siamo diventati ininfluenti a sinistra soprattutto come forza propulsiva e oppositrice e questo mi sembra abbastanza chiaro però riprendiamo il discorso sulla tecnologia per quale motivo io non credo assolutamente che il capitalismo e la tecnologia siano i binari dello stesso treno che viaggiano verso il progresso o verso l'infinito progresso tecnologico legato esclusivamente al capitalismo io invece credo che la sinistra avrebbe dovuto forse abbandonare un po' quella sorta di nudismo moderno e cercare di comprendere assolutamente come le tecnologie soprattutto le ultime tecnologie che parlo di quelle mediatiche internet di comunicazione moderna che avrebbero dovuto invece essere sfruttate ecco in questo inviterei la lettura io poi ve lo posso anche girare un articolo di Shushana Zuboff su Internazionale e anche la lettura di un bel libro di Dion Chulain sulla psicopolitica dico questo per quale motivo io non ho la convenzione netta che la tecnologia sia lo strumento del capitalismo io credo che noi non abbiamo compreso soprattutto a sinistra come utilizzarla al meglio e non abbiamo capito come i mezzi di comunicazione si siano trasformati attraverso internet allora la domanda che pongo al relatore è proprio questa cioè il paradigma di Adorno è attuale e credo proprio di sì ma come in realtà non confuta pronto? prego 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 continuo ah pensavo se qualcuno volesse quindi praticamente sul capitalismo e tecnologia invece io credo che comunque non sia un paradigma esatto e quindi di rivederlo ed eventualmente di ragionarci su anche alla luce di tanta letteratura che compro dal contrario grazie grazie a te prima di dare la replica a Enzo c'è Piero per l'ultima richiesta di parola Piero bevi l'acqua io volevo riprendere il fatto di Giorgesco Reagan dell'agricoltura industriale definita per economico e là è curioso ma mila anni questa è l'età che insegnano all'agricoltura del cibo di alimentare ha consentito di arrivare almeno fino alla fine con l'energia e oli naturalmente la terra si lavorava con il lavoro umano gli animali e gli animali vivono perché si sente molto male se potessi ripristinare come stavi prima si sentiva io avevo la cuffia adesso adesso si sente molto meglio grazie ho un nuovo computer che fa i capricci avete sentito qualcosa sì ma ho detto che per per diecimila anni l'agricoltura ha nutrito l'umanità e l'ha fatta arrivare ad alcuni miliardi di individui sino alla fine dell'ottocento quando poi è incominciato l'uso della concimazione chimica esclusivamente con l'energia solare cioè con il letame animale per fertilizzare la terra con l'energia del lavoro umano e così via allora la a partire diciamo soprattutto dai primi del novecento comincia l'utilizzo dell'energia fossile i concimi chimici non sono altro che fossili il fosforo il fosforo il potassio in parte è stato a lungo l'azoto l'azoto ora viene prodotto consumando però petrolio a livello industriale pensate per produrre i fosfati si distruggono chilometri di territori di suolo che sono formati di fosfate ci sono due isole dell'oceano pacifico che sono state abbandonate Ocean e Nairau sono state abbandonate dagli abitanti dopo che gli inglesi per un secolo hanno sfruttato i fosfati lo stesso accade in in Marocco una mia allieva ha studiato il caso del Marocco vedete l'emigrazione dei marocchini in Italia proviene quasi esclusivamente da un paio di province che sono siti minerali sono state siti minerali inaugurati dai francesi negli anni venti e lo sfruttamento delle territori è diventato talmente devastante che appunto gli abitanti sono dovuti emigrare quando quindi noi parliamo di agricoltura soprattutto gli agronomi e gli economisti agrari dimenticano assolutamente quello che c'è dietro i concimi minerali cioè questa devastazione di numerosissimi siti del pianeta che vengono distrutti con naturalmente inquinamento di acque e solventi eccetera eccetera quello che non succede allora quando e finisco allora che qualcuno e sono in molti anche scienziate anche studiosi propongono propongono come alternativa alla modello diciamo come possibilità di di sfidare le avversità climatiche le avversità dei parassiti l'agricoltura l'agricoltura degli OGM trascurano assolutamente questo dato di partenza cioè che il loro modello di agricoltura continua a saccheggiare il pianeta comportandosi come l'industria cioè saccheggiando l'energia fossile depositata nel suolo o nel sottosuolo ecco lo ricordo per mostrare come la prospettiva storica indica una possibilità e un'alternativa di economia perché se per 10.000 anni non c'è stato bisogno di saccheggiare i fossili oggi è possibile a maggior ragione con le conoscenze che possediamo grazie grazie Piero ho ancora una persona Pino poi darei la parola a Enzo per poter solo brevemente su un aspetto io non credo che Enzo abbia sostenuto che la meccanica classica non sia stato un fattore di progresso nello sviluppo dell'umanità e che la meccanica classica non riesce più a tener conto di alcuni fenomeni frattempo intervenuti cui invece la termodinamica o la meccanica quantistica danno ragione che ci insegnano un'altra cosa e ci insegnano cioè rispetto all'uomo prometeico che al quale corrisponde la possibilità di dare uno o più risposta ad ogni problema introduce una nuova io lo dico in questo modo una nuova visione della diciamo della vita sul pianeta e che quella cioè che ad alcuni problemi noi non abbiamo alcuna soluzione da offrire è una condizione dell'esistenza umana che noi dobbiamo cominciare ad accettare e che la meccanica classica in qualche modo non includeva mentre le speculazioni filosofiche epistemologiche fisiche moderne invece ci inducono a pensare grazie grazie Pino Enzo a te l'ultima parola questo argomento mi vengo questo argomento sollevato da Marina sul riduzionismo ma ha già risposto in qualche modo Pino c'è un riduzionismo scientifico che forse ci ha anche aiutato a trovare delle soluzioni a fare in modo che la scienza dell'occidente sia stato un modello di scienza universale insomma questo lo dico con molti dubbi ma c'è anche un riduzionismo ontologico cioè come dire il fatto che quel dato fenomeno deve corrispondere al modello che ho nella testa nel senso e questo mi porta voglio dire ad errori clamorosi tra cui il colonialismo tra cui voglio dire il razzismo eccetera perché nella mia testa il mio modello è voglio dire un modello semplificato e faccio corrispondere la realtà al mio modello ecco questo è pericoloso nel senso che poi nessuno vuole togliere i meriti a Galilei io meno che mai voglio dire nel senso che mi sono cresciuto in una facoltà scientifica quindi tecnica anzi non scientifica però voglio dire questa sua rottura col mondo della metafisica eccetera però voglio dire è un tantino esagerato se mi consentite un po' la battuta è un tantino esagerato gli scienziati filosofi del seicento su questa interpretazione della natura insomma ho già detto Bacone diceva che la natura è come una prostituta bisogna assoggettarla al nostro volere eccetera c'è quindi voglio dire ci sono state delle affermazioni su lo stesso lo stesso Descartes lo stesso Cartesio voglio dire secondo me il precursore della modernità voglio dire ha introdotto un errore diciamo così ecco un errore mi riferisco al libro di Damasio uscito una ventina di anni fa trentina di anni fa l'errore di Cartesio insomma ha introdotto questo errore della separazione tra corpo e mente che è alla base poi certo è alla base nello sviluppo dei calcolatori moderni nel senso c'è un hardware c'è un software la metafora è sempre la stessa insomma però voglio dire questo qui ci ha portato per tanti anni a ritenere che corpo e mente fossero due entità separate tra loro e invece voglio dire poi abbiamo sappiamo ormai che l'intelligenza fa parte proprio di questo rapporto e non vabbè comunque non so se ha finito se non ci sono altre altre domande altri temi ringrazio Enzo Scandura ricordo che questa lezione come le altre precedenti potete trovarle sul sito di Transform Italia e lascio la parola adesso a Piero che ci dice anche quali saranno le prossime tappe di questo percorso sì eccomi allora poche parole intanto per ricordare la prossima lezione di Settis che si intitola lo strano destino dell'articolo 9 della Costituzione dalla Costituente alla modifica del 2022 e si terrà come al solito giovedì 16 febbraio alle ore 18 l'articolo a cui si riferisce Settis è quello che riguarda il fatto che la Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico io però approfitto per fare dei ringraziamenti ringrazio Pino Greco un ex dirigente scolastico che mi ha fornito molti preziosi contatti per la verità per questo dovrei ringraziare molte persone che mi stanno anche ascoltando ma ringrazio Pino Greco perché mi ha messo in contatto soprattutto con insegnanti con il mondo degli insegnanti che è un contatto a cui io tengo in maniera particolare e ringrazio anche Roberta Renza Bertuzzi e Angelo Schebba che sono dirigenti di Gilda i quali non solo mi hanno fornito contatti con tanti insegnanti ma trasmettono le registrazioni delle nostre elezioni nel loro canale televisivo del sindacato quindi diciamo ci danno un contributo di primordine io cito questi casi per continuare a esortare gli insegnanti a servirsi di questa registrazione molte di questi insegnanti volenterosi possono nelle ultime classi della scuola media superiore far ascoltare con debita preparazione e far eseguire le lezioni ai ragazzi pensate a un tema come l'autonomia differenziata che è nostra ordinariamente trattata da Gianfranco Viesti in una delle lezioni registrate l'autonomia differenziata lo ricordo è un progetto già passato nel Consiglio dei Ministri che distruggerà l'unità del Paese che farà le scuole regionali cioè romperà l'unità formativa e culturale degli italiani noi rischiamo di perdere il bene più prezioso conquistato politico conquistato negli ultimi 160 anni l'unità del nostro Paese non è possibile che i ragazzi di oggi non sappiano nulla di come vivranno tra dieci anni di che Paese troveranno in quale ambiente invivibile saranno costretti ad abitare allora io credo che gli insegnanti oggi non solo debbano fare onestamente quello che fanno cioè il loro mestiere ma anche compiere uno sforzo aggiuntivo di impegno civile devono devono coinvolgere di più i ragazzi nella storia del nostro tempo e queste lezioni sono uno strumento importante per farlo grazie a Roberto per il suo lavoro a tutti voi grazie naturalmente ad Enzo per la serata arrivederci ciao a tutti grazie ciao ciao a tutti ciao ciao